Giulia Quintavalle, ospite d'onore della Festa dello Sport 2015 sul palco del Gala delle Stelle e poi nell'incontro con i giovani dell'alimentazione. Intanto ti ringraziamo per averci onorato dalla tua presenza. Quanto contano secondo te eventi come questo per promuovere la passione per lo sport tra i ragazzi? Soprattutto grazie per l'invito. Sono stati due giorni molto belli e interessanti. Sicuramente queste giornate sono importanti per i bambini, per avvicinarli allo sport, ma è stato importante allo stesso modo anche il convegno di questa mattina perché è importante fare sport ma anche un'alimentazione sana è molto importante. Tu ti ricordi come ti sei avvicinata allo sport e i primi passi? Sì, ho iniziato da piccolina a praticare judo perché già lo praticava mio fratello più grande e i miei genitori ci hanno sempre spronato a me e a miei fratelli a fare attività e quindi ho fatto il judo come tanti altri sport e poi insomma il judo è stata la mia passione. Giudo che ti ha portato a vincere una medaglia olimpica, essere oggi portamandiera dell'Italia, i prossimi giochi olimpici europei in una carriera straordinaria, tesserata per le fiamme gialle, il consiglio di una grande campionessa per i giovani. Fare sport perché? Fare sport perché aiuta a crescere, educa, insegna rispetto. Uno sport come il mio poi insegna a rispettare le persone perché appena saliamo sul tatami facciamo il saluto per ringraziare l'avversario, lo facciamo anche alla fine per ringraziare di aver fatto il combattimento. Quindi è importante fare sport perché, come ho già detto, educa e insegna moltissimo, non solo dentro la palestra ma anche al di fuori nella vita quotidiana. La cosa che ti piace di più del judo? Sicuramente il rispetto e l'autocontrollo del proprio corpo.